Professor Garattine, lei ha appena parlato di una assimetria informativa, di una non indipendenza dell'informazione per quanto riguarda il rapporto medico e paziente. Si può parlare di questa assimetria anche tra politica e scienza, visto che lei ha appena anche sottoscritto un manifesto in cui si chiede un maggiore equilibrio? Il problema della assimetria è in due direzioni. Il primo è che è fatto soltanto da chi vende qualcosa e manca completamente la informazione indipendente da parte invece di chi ha interesse a che i farmaci vengano somministrati in modo appropriato. Poi c'è un'altra assimetria che è quella dell'entusiasmo sempre per i benefici e della scarsa informazione sugli effetti collaterali dei farmaci. Quindi bisogna ristabilire una simetria perché il medico si è in grado di giudicare in maniera più corretta. Per quanto riguarda il rapporto tra scienza e politica è stato l'ordine del giorno in questi mesi per la questione vaccini. Come si può riportare un equilibrio tra queste due parti e della questione vaccini? Secondo lei come è stata trattata? Il problema è quello che la politica rispecchia la situazione della ricerca nel paese. La ricerca in Italia non è importante, non fa parte della cultura. Abbiamo ancora una cultura che è di tipo letterario, filosofico, giuridico e la scienza non è entrata come conoscenza e quindi non si chiede alla scienza quello che è il suo campo. I politici se devono fare qualcosa in campo di giurisprudenza, nelle leggi chiedono agli esperti di giurisprudenza. Se devono fare qualcosa nel campo della medicina invece non chiedono a quelli che sono i competenti, poi possono seguirlo o non seguirlo, ma devono almeno chiedere e devono rendersi conto di quali sono le conoscenze. Ognuno va un po' troppo dalla propria strada. Esatto, siamo uno dei pochi paesi in cui non c'è una interfaccia fra scienza e politica. Tutti i paesi hanno l'advisor scientifico, hanno la commissione scientifica che si interfaccia con la politica. Da noi non esiste uno strumento di questo genere. Una domanda, ma secondo lei è stato invece un po' troppo politicizzato l'argomento vaccini, da una parte e dall'altra? Certamente, è un argomento che non va politicizzato, è un argomento che va visto per i benefici che porta e quindi dovrebbe essere visto sulla base di quello che se serve o non serve all'individuo e alla società. Prendere posizioni in modo assolutamente populista è uno degli errori del nostro dibattito politico.